24 ore dopo è arrivata la risposta dalla regione al consigliere comunale Dante Capriulo sull'erogazione dei contributi per fitti al comune di Taranto. La determina è stata firmata, ha detto Angela Barbanente, assessore regionale alle politiche abitative, interpellata dallo stesso Capriulo perché sollecitasse l'erogazione dei contributi per i fitti alle famiglie con redditi bassi. Il riscontro su questi fondi attesi da oltre mille famiglie tarantine è arrivato e la situazione dovrebbe sbloccarsi dopo che, come ha affermato la Barbanente, c'erano stati ritardi dovuti alla graduatoria da perfezionare. L'erogazione, scrive Capriulo, riguarda l'intera regione e ci sono famiglie che attendono un importante contributo al proprio reddito per sostenere le spese di locazione. Facendo seguito alle segnalazioni ricevute da numerose famiglie Capriulo aveva richiesto di verificare per quale motivo a tutt'oggi non risultavano erogati per l'anno corrente i contributi previsti per i contributi fitti ai sensi della legge 431 del 1998 al comune di Taranto. Capriulo aveva scritto alla Barbanente perché da notizie che aveva ricevuto attraverso funzionari comunali il ritardo nell'erogazione ai cittadini è imputato al mancato trasferimento dei fondi da parte della regione Puglia. Ma ora i fondi sono stati sbloccati e mille famiglie possono tirare un sospiro di sollievo. Grazie a tutti.